Buongiorno amici, io sono Carla, sono una disegnatrice di professione, ho collaborato con tantissime case editrici per la creazione di libri per bambini e ho lavorato anche per il cinema d'animazione. Forse avete visto La gabbianella e il gatto che è stato il primo vero lavoro da disegnatrice che ho fatto qualche anno fa. Oggi sono qui al laboratorio artistico, cioè il posto dove io lavoro, per rispondere a alcune delle domande più diffuse sul mondo del disegno, per sciogliere alcuni dubbi che mi avete posto sui vari social oppure qui in presenza durante i corsi al laboratorio artistico di Manta. Prima domanda, c'è bisogno di avere talento per imparare a disegnare? Se non ho talento, se sono nata senza quella roba lì magica, quella polverina magica della fatina, posso comunque imparare a disegnare e dipingere? La risposta è sì, il talento è una cosa assolutamente, completamente, totalmente sopravvalutata. Per qualunque attività che voi andate a fare, sicuramente esiste una predisposizione. Cioè c'è chi è più bravo in matematica, chi impara facilmente le lingue, chi facilmente riesce a disegnare o suonare un strumento. Ma questo è diciamo un 5%, ok? Anche meno? Cioè è proprio un pezzettino, nel senso che se voi avete quello che veramente conta, che adesso ve lo dico, è la passione, potete fare quello che volete. Cioè la passione è quello che veramente vi porta a migliorare, a studiare, a fare, a sperimentare. Perché poi l'arte, dimentichiamo per un attimo anche la questione disegno uguale realismo, perché c'è tanto di più. Cioè non è che l'unica predisposizione che io devo avere per il disegno è quello di imparare in fretta a fare qualcosa di realistico e se no non sono niente, non ho fatto niente e non devo fare niente, non posso più migliorare, non posso provare. Questa non... Cioè è una falsa credenza veramente anche un po' stupida, permettetemi. Perché io l'ho già detto più volte, lo ripeto sui social, nei video e anche alle persone che mi seguono sia online che in presenza qui. Quindi tutto quello che noi amiamo possiamo imparare a farlo, possiamo migliorare. Oltretutto il disegno e la pittura non sono come, non lo so, per dire il basket che effettivamente, diciamo, se hai 80 anni e sei alto un metro e venti puoi trovare difficoltà aggettive. Ora, nell'arte, io che pratico, faccio anche arte terapia e pratico arte con qualsiasi tipo di persone, vi posso dire che tutti possono fare arte, anche se vi manca una mano potete fare arte. Perché l'arte è talmente ampia, talmente libera, liberiamoci anche mentalmente dall'idea che debba essere bella, che debba essere come qualcuno vuole, non si sa chi. Comunque, liberiamoci un po' dagli stereotipi. Sì, potete imparare. Concludendo, potete imparare anche se non avete uno strano, se pensate, pensate, perché non è detto che non ce l'abbiate, il talento. Se pensate di non avere talento, sì, potete imparare, potete migliorare. Tra l'altro ci sono delle tecniche ben precise, una di queste che io nomino spessissime la tecnica delle forme semplici per imparare a disegnare, ma ce ne sono anche tante altre, che sono davvero, mi verrebbe da dire, scientifiche. Cioè, passo passo, se fai quegli step lì e lì, diciamo, alleni un pochino, migliori per forza. Soddisfatti e rimborsati. Collegata un po' alla domanda precedente, molta gente spesso mi chiede, ma se da piccolo non ho imparato e comunque non ero bravo, ora che sono adulto, sono in pensione, posso imparare o ormai meglio lasciar perdere? Allora, assolutamente sì, anche in questo caso. Ovviamente, se uno vuole fare il disegnatore, l'illustratore, l'artista di professione, prima inizia, meglio è, questo è ovvio. Però rimane il fatto che se l'arte, il disegno, la pittura, è nelle nostre corde a livello di passione, non a livello di talento, dimentichiamo il talento, non pensiamoci. Se vi appassiona, se vi piace, le tecniche sono tantissime. E come dicevo prima, ci sono delle tecniche scientifiche, che mi piace definire scientifiche, nel senso che esperienzialmente possiamo sperimentare che funzionano per migliorare nel disegno alla portata di tutti. Quindi la risposta è di nuovo sì. Se siete in pensione e avete sempre desiderato imparare a dipingere, iscrivetevi a un corso di pittura e trovate tante soddisfazioni. La prossima domanda è Posso imparare da solo a disegnare tramite corsi online, tutorial, insomma, da autodidatta? Sì e no. Nel senso che, allora, sicuramente corsi, tutorial, libri, tutto quello che vi sembra bello, che vi piace, che vi attira nel mondo del disegno e della pittura, seguitelo, guardatelo, interessatevi. Però se non avete mai fatto nessun corso con un insegnante in presenza oppure online, ma magari su Zoom, cioè una persona che possa rispondere alle vostre domande e che vi veda disegnare, io vi consiglio comunque di farlo, perché vi semplifica moltissimo le cose. Non è che sia impossibile da autodidatta diventare anche un grande artista. Abbiamo degli esempi, in realtà sono meno di quelli che, di quello che uno si immagina, perché sono pochissimi gli artisti che sono diventati tali da autodidatte. In realtà sono pochissimi gli artisti che sono diventati tali senza un maestro, senza andare a bottega, perché non usava, insomma, Michelangelo, Leonardo da Vinci, tutta questa gente che aveva un talento già smisurato, sono tutti andati a bottega. Picasso era figlio di un insegnante d'arte, insomma, in un modo o nell'altro, anche se io per esempio non ho frequentato il liceo artistico, ho frequentato lo scientifico, però poi ho fatto una scuola di tre anni dopo, ho fatto l'istituto europeo di design, ho fatto diversi corsi con dei professionisti e tuttora mi formo seguendo tutorial, comprando libri, guardando cose, perché, diciamo, la formazione è importante e seguire chi ne sa più di noi è anche un'opera di umiltà, che sicuramente ci fa crescere molto più in fretta. Per cui io, quando mi sento fare questa domanda, mi chiedo, perché? Cioè, perché non sei disposto ad andare ad un corso a seguire un maestro o una maestra? Fai molta più fatica a fare da solo. Anzi, il mio consiglio per sviluppare veramente le capacità artistiche, quindi non solo quelle tecniche, ma proprio quelle creative, e di seguire più maestri con tecniche diverse, perché magari uno ti insegna il realismo, l'altro ti insegna il fumetto, l'altro ti insegna l'apparello, e sono cose diverse, magari anche corsi brevi, cioè non è che uno deve iscriversi all'accademia, chiaro, se ti iscrivi all'accademia, ottimo, però magari uno lavora e, non so, o studia, ma qualcos'altro, e non ha tempo di fare corsi tanto impegnativi. Però ce ne sono online, ce ne sono anche sul mio sito www.scolarte.it, potete anche contattarmi via Zoom, se volete, potete venire qui da me, se siete in zona Saluzzo, Cuneo, potete trovare altri validissimi insegnanti, ma sì, secondo me sì, seguite un insegnante e avrete tante soddisfazioni, e soprattutto avrete modo di diventare bravi molto più in fretta, perché da soli veramente si sbatte un po' la testa contro il muro. E lo so io stessa che ho iniziato a studiare disegno 19 anni dopo aver preso la maturità, e che comunque, pur essendo nata a certa predisposizione, perché io ho sempre amato tantissimo disegno, ero brava già da bimba, però ecco, diciamo che con le mie sole forze sono arrivata fino ad un certo punto. Dopodiché mi era proprio difficile, ed era anche frustrante, devo dire la verità, proprio perché essendomi sempre sentita dire, oh come sei brava, come disegni bene, mi sembrava di saper già tutto da piccola. Quando poi mi sono confrontata con quello che avrei potuto imparare, con le tecniche, con tutto quello che c'era, mi sono resa conto che da sola non ce la potevo proprio fare, e mi sono appunto sentita frustrata dal fatto che c'è un pochino questa idea che chi nasce col talento, parola che io odio, col talento sa già. Ma perché? Non è vero. Cioè è proprio, come direbbe Fantozzi, una caca pazzesca. Cioè, per favore, non è vero, non si nasce imparati ragazzi, non è così. Quindi, se vi piace l'arte, fate qualche corso. Poi i tutorial online e i libri sono ottimi dopo, o comunque insieme. Cioè, mentre un maestro vi segue, magari fate un corso d'acquarello, di anche solo 10, 15, 20 lezioni, in presenza, possibilmente, o su Zoom con una persona reale. Dopodiché, i tutorial riuscite a capirli meglio. Fidatevi, perché i tutorial non sono neanche così semplici video. Molto spesso non sono così semplici da capire, se non hai mai, veramente mai, mai, mai preso un canello in mano. Una domanda che invece non mi è mai stata fatta, ma so che vorreste sapere la risposta, perché la vedo, la vedo aleggiare in tutti i corsi di disegno, pittura, illustrazione, qualunque, soprattutto negli adulti, è questa. Come si fa a superare la paura di fare una schifezza? Perché io vedo, vedo, proprio nei volti di chi disegna, di chi dipinge, di chi impara, molto spesso questo disagio, no? Il disagio, questa ansia da prestazione, no? Devo fare un bel disegno. Oppure una cosa, che poi bel disegno molto spesso vuol dire somigliante. E anche qui ci sarebbe da disquisire, perché l'arte non deve per forza somigliare a qualcos'altro. Comunque, vabbè, questo è ancora un altro argomento. Però vedo proprio la difficoltà, no? Quando, per esempio, io qui ai corsi di pittura, o di disegno insegno qualcosa, per esempio il ritratto, molte persone sono veramente in difficoltà. A volte anche i bambini, più gli adulti, ma a volte anche i bambini. Sono in difficoltà psicologica, cioè quest'ansia da prestazione di dover per forza fare una bella cosa, una buona cosa, una bella cosa esteticamente gradevole, appunto, somigliante, realistica. Allora, su questa cosa bisogna un attimino fare un passo indietro, ok? Se voi, invece di andare a studiare disegno, andaste a fare danza, ok? Io immagino che alle lezioni di danza voi vi aspettiate di fare stretching, di imparare i passi, di imparare a fare, non lo so, la spaccata, di studiare una coreografia, tutta una serie di cose. Questi sono tutti esercizi, ok? Cioè, quando voi imparate, per esempio, la danza, ma anche quasi tutto, la prima cosa che fate è fare esercizi, ok? Ci siamo, vero? Cioè, chiariamo questo punto. Non è che io vado a lezione di danza, è la mia prima lezione, l'insegnante mi dice, vieni, stiamo facendo il saggio, ci sono mille persone che ti guardano, vai e fai il lago dei cigni. Cioè, sarebbe una pazzia, siamo d'accordo che sarebbe una pazzia? Allora, perché quando io dico oggi impariamo il ritratto, voi vi immaginate di fare un ritratto fatto, finito, perfetto? Cioè, perché con la danza vi aspettate di fare ginnastica, esercizio, di imparare la coreografia? Con il disegno invece arrivate e volete fare subito, no? Fate solo le cose in bella, con il disegno si fa solo in bella, tutti i disegni sono da tenere, tutti i disegni sono da vendere, tutti i disegni devono essere belli, tutti i disegni devono essere vendibili o regalabili per Natale ai nonni, cioè, questa cosa è una cosa assurda. Nel disegno, come in qualsiasi altra materia o cosa che volete imparare, c'è la ginnastica e l'esercizio, è la zona nella quale voi imparate le cose. Questo momento è un momento in cui la ballerina si inciampa, la ballerina non sa fare la spaccata, impara, quindi deve, sbaglia i passi, e voi sbagliate a fare, a disegnare gli occhi, sbagliate a stendere il colore, è ovvio. Cioè, l'errore, ma a me non piace neanche chiamarlo errore, l'esercizio, la brutta, chiamiamola la brutta, l'esercizio in brutta, è fisiologico, cioè, non è possibile, toglietevolo dalla testa, che io vada lì da una persona e gli dica, fai il ritratto e lui, puff, dal nulla, questa cosa non esiste, è un po' una leggenda metropolitana assurda. Lo so che ci sono quelle persone più dotate, che hanno una predisposizione per carità, l'ho già detto prima, anch'io da piccola avevo questa predisposizione, però arriva fino lì, cioè, comunque, anche chi ha questa predisposizione, se non fa esercizio, cioè, se non fa le brutte, che sono una cosa fondamentale, non migliora, cioè, senza fogli e fogli che voi prendete, poi buttate via, ottenete perché vi piace di detenerle, ma fondamentalmente hanno il valore di una carta straccia, cioè sono brutti, sporchi, macchiati, ci avete sul nostro sangue, e il vostro, veramente, il vostro stretching, la vostra coreografia da imparare, i vostri passi che cadete, senza quella roba lì, non esiste miglioramento, cioè, qui c'è un gigantesco misunderstanding, sul fatto che, io inizio a disegnare, e sono già bravo, cioè, quindi il foglio bianco, dal foglio bianco deve uscire un'opera d'arte, eh sì, ma, dal foglio bianco all'opera d'arte, in mezzo, tanti esercizi, io, se adesso vi tirassi fuori, non posso farlo, perché ne ho veramente troppi, e tantissimi sono digitali, ma, se io vi dovessi tirare fuori, la quantità di esercizi, che io ho fatto, in termini di fogli, ma sono migliaia di fogli, non la dico così per dire, sono veramente migliaia, migliaia di fogli, prima di imparare, vabbè, a disegnare a livello professionale, perché io sono una professionista, ma anche di migliorare, quando ho deciso, comunque, di salire qualche gradino, rispetto a quello che, madre natura mi aveva dato, di predisposizione, cioè, lì ci sono veramente, ore e ore, di prove, di esercizi, che voi dovete pensare, di prendere e buttare via, devono essere brutti, cioè, se non sono brutti, è perché voi non avete sperimentato, una cosa che non sapevate fare, cioè, quando da piccolo, impari a disegnare il cuoricino, la stellina, no, quella fatta così, impari, facendone, duecento brutte, e poi, se tu continui a fare solo la stellina, che ti viene sempre bene, e sei contento di fare la stellina, fai solo quella, perché, poi, non sei più bambino, non osi più, fare la cosa brutta, e, oddio, e quindi, è finito il tuo, margine di miglioramento, cioè, se non siete disposti, a fare dei disegni brutti, ecco, non potete disegnare, non potete farlo, ok, quindi, ritornando alla domanda iniziale, di questo video, non sarà la mancanza di talento, che vi bloccherà, sarà la mancanza, di umiltà, cioè, se voi pensate, che il talento, vi possa donare la capacità, di fare solo disegni belli, per me, potete anche andare, a studiare da astronauti, magari c'è qualche astronauta, che mi segue, non lo so, credo di no, però, magari, ce n'è uno, fantastico, adoro tra l'altro, l'astronomia, è una mia passione, però, voglio dire, è più facile fare l'astronauta, a quel punto, che, che imparare una qualsiasi cosa, non solo il disegno all'arte, ma una qualsiasi cosa, così, la faccio bene così, allora, quindi, il brutto, fa parte del gioco, la nota stonata, fa parte del, della canzone lirica, che stiamo imparando, la caduta, fa parte del lago dei cigni, che io andrò a fare, fra sei mesi, un anno, dieci anni, per me sarebbe anche, di più dieci anni, però, domanda, che mi è stata fatta, l'altro giorno, e che meriterebbe, non un video, ma un corso intero, e che infatti lo merita, perché io, esattamente quello che faccio, nei miei corsi, la domanda è questa, come posso imparare a disegnare quello che vedo? Questa è una domanda immensa, perché le lezioni di disegno, di base, in realtà potrebbero essere super semplici, cioè io ti potrei dire, hai questo oggetto, ok, inzetta per i capelli, guardalo, e disegna quello che vedi, è finita lì, cioè, se tu, adulto, parliamo di adulti, che hanno già una manualità, di base, abile, allo scrivere, in corsivo, quindi sanno utilizzare la matita, in maniera corretta, cioè praticamente, tutti, gli adulti, salvo problemi particolari, tutti gli adulti, hanno, la manualità, di base, sviluppata per disegnare, quindi non è la manualità, che vi manca, per disegnare, l'uso del pennello, è un altro, un altro punto, ma io sto parlando del disegno, ok, la matita, qui, tu hai la manualità, se sei un adulto, che mi stai seguendo, ce l'hai, come mai, non ti viene questo disegno, non ti viene, perché non vedi, non guardi nel modo giusto, l'educazione, all'osservazione, corretta, della realtà, è una cosa, immensa, molto complessa, che si fa step by step, e che, ecco, in questo caso, effettivamente, ci sono persone, anche bambini, che hanno una buona predisposizione, qui, faticano meno, ma, mi ritorna, ritorno a dire, che si impara, si allena, e di nuovo, una qualità che si allena, vi faccio un esempio, vi spiego, che cosa intendo, un errore, che fanno, tutti, tutti, 100%, quando io inizio, i corsi di disegno, è, sbagliare, la prospettiva, intendo il punto di vista, perché io non, non spiego proprio prospettiva, con le squadrette, no, però, il punto di vista, ok, allora, io qua ho, un'agendina, questa è la mia agendina, ok, voi la vedete, la state vedendo, in un video, e, riuscite a decodificare, il vostro cervello, a esperienza, di questo oggetto, sa, più o meno, base per altezza, l'hai adocchiata, com'è, probabilmente ti fai un'idea, di quanto pesa, di che consistenza ha, ok, perché hai visto migliaia di agendine, se io prendo questa agendina, e la metto su un tavolo così, ok, e ti dico, ok, disegnala, e tu la vedi esattamente, come la stai vedendo, in questo video, ok, tutti, 99,9%, come i batteri, che possiamo uccidere, con certi detergenti, 99,9%, mi disegnano l'agenda, base per altezza, cioè così, anche se la vedono così, attenzione, io vedo, una base, in questo momento, che è, il, doppio dell'altezza, ma siccome, io so, il mio cervello sa, che la base, è, metà, dell'altezza, ok, ma la realtà, di quello che io vedo, è questa, perché allora, la disegno così, perché non osservo, perché non ho, la capacità, di, discernere, fra, stereotipo, stereotipo, dell'agendina, e realtà, realtà tangibile, qui e ora, che è questo, la mia agendina, qui e ora, se io l'appoggio su un tavolo, e tu la vedi in questo modo, è schiacciata, è discorcio, è in prospettiva, se io, la vedessi correttamente, l'educazione, alla visuale, all'osservazione corretta, non stereotipata, richiede tutta una serie di, così, di step, di lezioni, e soprattutto, bisogna notare, le cose, cioè io, molto spesso, quello che faccio, è far notare, alle persone, che, non stanno osservando, nella maniera giusta, e qual è la maniera giusta, di osservare, in base a quello che stiamo facendo, al soggetto, che stiamo, ritraendo, un'altra, un'altra cosa, che mi succede spessissimo, quando faccio la lezione, di, di ritratto, e c'è, un video, a proposito, qua, sul ritratto, che, che ha tutte le proporzioni, quindi potete andarvelo a vedere, se volete, la lezione sul ritratto, è curiosa, perché, io, faccio partire, sempre, quando facciamo il ritratto, il primo ritratto, che si fa, è quello di fronte, no, quindi, io sono perfettamente dritta, né destra, né sinistra, dritta, in questo modo, la, il mio volto, è simmetrico, il primo punto, che andiamo a considerare, è questo, il punto in mezzo agli occhi, perché questo punto, perché se io sono dritta, in questo modo, questo è il punto centrale, del mio volto, del mio ovale, e qui, mi, mi pettino, perché, eh, per me è facile, ho i capelli lisci, quindi non, non faccio tanto volume, sto calcolando, diciamo, la forma del cranio, quindi, se io avessi, la cofa in alta così, sarebbe un po' più, complicato la, eh, la, la proporzione, per me è facile, perché qui c'è poco, poca massa, in questo caso, attenzione, perché poi tutti, no, non è vero, poi lo disegno è troppo alto, no, non funziona, mi fanno una cosa tutta storta, questo punto è metà, destra, sinistra, sopra, sotto, bocca chiusa, perché se la apro, ovviamente cambio questa misura, prendete, mettetevi allo specchio, prendetevi le foto, mettetevi il righello, questa parte qua, dal punto centrale in mezzo agli occhi, a dove finisce, diciamo, il mio cranio, no, quindi, esclusi i riccioli, i fiocchi, eccetera, i cappellini, è uguale a quella sotto, la maggior parte della gente, nonostante io glielo dica, poi, quando disegniamo l'ovale, facciamo la croce, la cosa, tutto lo schemino, lo disegna, mi segna le cose giuste, e poi, inevitabilmente, si va a schiacciare, in qualche modo, questa povera fronte, abbiamo un cervello enorme, noi umani, e sta qua dentro, ed è grande, rimisuratelo, perché questo? Perché non si osserva, perché non credi a quello che vedi, tu vedi una cosa, te la faccio notare, come ti faccio notare, che questa altezza, è la metà della larghezza, e tu continui a vederla così, cioè tu rimani fermo, nel tuo stereotipo, di pensiero, quindi non vai nella realtà, che è appannaggio, dell'emisfero destro, ma rimani, nell'emisfero sinistro, del tuo cervello, che ti dice delle cose stereotipate, che vanno benissimo, per la vita di tutti i giorni, perché altrimenti, ogni volta dovremmo fare, come quel bambino, di sei mesi, che quando ha questo, lo tocca, non sa cos'è, lo mette in bocca, non l'ha mai esperienziato, va benissimo, che se questo è sul tavolo, io già so che cos'è, già so quanto pesa, già so che consistenza, bellissimo, ma per disegnare, io devo guardarlo, com'è qui e ora, nella realtà, di adesso, quindi questa è una cosa, che va assolutamente allenata, altro problema, che molte persone si pongono, è questo, disegno abbastanza bene, però riesco solo a copiare, non riesco a inventare, ha un problema, allora, no, è normale, è normalissimo, innanzitutto, dipende da, che cosa vuoi fare tu, cioè, che cosa vuoi raggiungere, come finalità, del tuo, migliorare, nel disegno, della pittura, quindi, lo step, di copiare, è fisiologico, ovviamente, come qualsiasi tipo, di predisposizione, c'è chi è più predisposto, magari, a inventarsi le cose, perché non si fa, magari, il problema, mette giù, e inventa cose, fa, e chi invece, si trova meglio, con un soggetto, da, da guardare, da copiare, allora, è una cosa normalissima, sono normali, entrambe, entrambe le situazioni, ok, di sicuro, se io voglio, migliorare nel disegno, e diventare, un professionista, l'idea, di imparare, a copiare, comunque, è fondamentale, perché, normalmente, quando io realizzo, per esempio, una copertina, un'opera, un fumetto, o quello che è, la prima cosa che faccio, quando ho un testo, da illustrare, è, andarmi a cercare, delle immagini, di riferimento, per esempio, io ho illustrato, qualche tempo fa, un libro, per bambini, io illustro cose, per bambini, in cui, i protagonisti, sono dei cavallini, ok, anche se, i miei cavallini, sono, cartoon, quindi, non sono, particolarmente, realistici, l'autrice, è un'autrice, che, ha un maneggio, quindi, nel, nello script, c'era, tutto un, un elenco, di, di tipi, di cavalli, quindi, con le razze, proprio, che io, sinceramente, non conoscevo, quindi, sono andata, come prima cosa, a cercarmi, tutte le razze, di cavalli, che venivano nominate, fare, delle copie, disegnare, copiando, quei tipi di cavalli, per poi, fare una trasposizione, nel mio mondo, visivo, cioè, nei miei cavallini, cartoon, quindi, lo step, gli step, sono proprio questi, cioè, prima guardo, osservo con attenzione, poi copio, che, può voler dire, magari, fare degli schizzi, degli studi, oppure, delle cose più approfondite, quindi, disegni fatti e finiti, e poi, cioè, l'ultimo step, è quello di inventare, di passare, all'invenzione, diciamo che, è un'altra leggenda metropolitana, quella dell'invenzione dal nulla, non esiste, cioè, noi, facciamo sempre qualcosa, che abbiamo visto, che abbiamo, poi, magari, l'idea, ci sembra così nuova, perché, in realtà, abbiamo visto, migliaia di cose, le abbiamo messe insieme, e tutta questa, diciamo, paciugo, di cose, se messe insieme bene, creano una cosa nuova, non è che viene dal nulla, viene da una cosa che ho visto, quindi, è normalissimo, che le persone, prima di inventare, osservino, tanto più, che io, per esempio, oltre a, procurarmi, delle reference, quindi, delle immagini di riferimento, per esempio, dei cavalli, mi procuro, anche delle immagini di riferimento, non lo so, del maneggio, del bosco, dove i cavallini vanno, non lo so, insomma, a seconda di quello che io devo fare, mi trovo più immagini di riferimento, e poi le mixo, quindi, non copio, esattamente, l'immagine del cavallo, nel suo maneggio, prendo, un maneggio che mi piace, poi me lo cambio, me lo invento, ci metto la, la bambina, che, è il personaggio principale, che io ho studiato in precedenza, che magari ho guardato, io per esempio, per studiare i personaggi, mi piace molto, guardare dei film, guardare le attrici, gli attori, come, come esprimono, che faccia hanno, che tipo di caratterizzazione hanno, poi, mescolo tutte queste carte, e viene fuori una cosa nuova, sono carte che già esistono, quindi, sono cose che ho visto, e ho copiato, ovviamente, nell'arte, nella creatività, non prendo, una copertina di un altro, la copio, e la vendo come mia, non è fattibile, per legge, e non mi piacerebbe farlo, non sarebbe soddisfacente, ciò nonostante, io prendo, sicuramente spunto, tra l'altro, la cosa migliore, il mio consiglio, anche se è anche più difficile, però, il top del top, è copiare dalla realtà, quindi, è più facile, sicuramente, copiare da altri artisti, che hanno già elaborato, un'idea, un'immagine, o da fotografi, o, nel mio caso, io guardo molto, anche i film, frame di film, cose del genere, però, la realtà, è molto più, profonda, molto più interessante, molto più creativa, quindi, io vi consiglio, prima lezione di disegno, andate, guardate la realtà, che è una cosa che, si fa sempre meno, sembra una stupidaggine, da dire, dove tu sei, in questo momento, ovunque, anche se sei a casa tua, e ti sembra di averla vista, mille volte, non l'hai vista, credimi, non l'hai vista, se tu, adesso ti giri, e osservi, nell'angolo, in basso a destra, per dieci minuti, che cosa c'è, troverai qualcosa, che non hai mai visto, sono pronta, a scommetterci, perché, perché non abbiamo, l'abitudine, osservare, nel modo corretto, e prendendoci, il tempo giusto, ma se imparo, a disegnare, poi, ci posso guadagnare, sì, se diventi un professionista, sì, come, tutto, nel senso che, ovviamente, non basta, imparare a disegnare, bene, non è che io, imparo a fare il ritratto, e poi, sono un disegnatore, e guadagno, non funziona, proprio così, il mestiere, dell'illustratore, dell'artista, ci sono tanti mestieri, che io posso fare, con, che, ai quali, serve una base di disegno, però, la base di disegno, è solo un pezzetto, quindi, io, per esempio, sono un'illustratrice, quindi, disegno per mestiere, sono una disegnatrice, professionale, ho dovuto imparare a disegnare, devo, migliorare il disegno, tutti i giorni, formarmi, eccetera, ma questa non è l'unica cosa, per fare l'illustratrice, per esempio, per l'editoria, tu devi sapere, come viene fatto un libro, come, come viene fatto, a livello tecnico, proprio, come funzionano i processi di stampa, che cos'è una quadricromia, che cos'è uno sbordo, che cos'è, che cosa vuol dire, una bozza di stampa, insomma, ci sono tutta una serie di cose, che ti serve sapere, che devi sapere, se lo vuoi fare per mestiere, a seconda del mestiere, che tu vuoi fare disegnando, perché ce ne sono tanti, quindi, quindi, sì, sicuramente, si può fare, del disegno, una professione, ho fatto anche, già un video, in precedenza, poi, se volete, che io, faccia, delle, degli altri video, su questa, questo argomento, oppure su, una delle altre domande, che, ho buttato lì oggi, che, volete approfondire, ditemelo, scrivetemelo nei commenti, che cosa volete approfondire, così, io, magari, nei prossimi, nei prossimi settimane, vado avanti, soprattutto, perché queste state, ho intenzione di fare, diversi video, e quindi, approfittatene, scrivetemi, contattatemi, potete anche, contattarmi via email, carlachioccio, scuolearte.it, andare a vedere il sito, www.scuolearte.it, e contattarmi lì, per chiedermi, questa o altre cose, in maniera approfondita, si può, diventare, disegnatori professionisti, io, seguo, ho seguito, persone, in questo percorso, soprattutto, per quanto riguarda, la mia, professione, scusate, inerente al disegno, perché, appunto, come dicevo, ce ne sono diverse, per esempio, uno potrebbe fare il tatuatore, mi è anche capitato, di fare un corso, di disegno a un tatuatore, però, poi, appunto, come facilmente si capisce, nel caso del tatuatore, e saper disegnare, non è l'unica cosa, poi devi imparare, anche tutte le altre cose tecniche, quindi, è una delle materie, il disegno, che ti serve per fare il mestiere che intendi fare, se ci vuoi guadagnare, dopodiché, se vuoi provare a fare dei bei disegni e venderli, quindi, fare l'artista, libero, eccetera, eccetera, sappi che anche questa, è una professione, che ha, delle difficoltà, delle, cose da imparare, quindi bisogna, anche in questo caso, io consiglierei di, farsi fare delle consulenze, ci sono degli artist coach, che, vi seguono, vi possono seguire, magari anche solo all'inizio, magari investire inizialmente, in questa cosa, no, di capire, se vi sentite, diciamo, se vi sentite questa vocazione, perché secondo me è una vocazione, quella di, di fare l'illustratore, l'artista, il fumettista, il grafico, perché comunque è anche, grafici in una certa maniera, quello fanno, e insomma, sono un po' delle vocazioni, secondo me, però, prendetela sul serio, cioè, non è che faccio due disegnini, perché mi capita, no, ah, ma ho fatto questi due disegnini, quanto valgono, magari in carta, delle fotocopie, che dietro c'era ancora la lista della spesa, giuro, mi è capitato, giuro, non è così che funziona, cioè non funziona, io faccio un disegnino carino, può funzionare, se lo regalate a Natale, quindi, insomma, in qualche modo, ci avete guadagnato, perché non avete speso, nei cioccolatini, ma avete regalato il ritratto, e va benissimo, è una cosa bellissima, che i vostri parenti apprezzeranno, però cerchiamo di capire che sono delle professioni anche abbastanza complesse, io per esempio, che ho lavorato nel cinema d'animazione, quella è una professione estremamente tecnica, estremamente faticosa, bisogna sapere tantissime cose, essere molto precisi a livelli estremi, infatti io ho retto per due anni, mi è piaciuto tantissimo, l'ho amato tantissimo, anche perché La gabbiana e il gatto è un film meraviglioso, io sono orgogliosissima, ma più di due anni non ce l'ho fatta, perché comunque è veramente un mestiere molto difficile, estremamente faticoso, estremamente tecnico, devi sapere come si fa il film, devi sapere quanti fotogrammi al secondo, cos'è il timing, come si fa a disegnare una persona che dice ciao e la sua bocca si muove a seconda delle lettere che sta dicendo, cioè le cose tecniche sono veramente tante, quindi non fermiamoci al ok so disegnare due cosine carine, adesso ci guadagno, cioè se riuscite a farlo, contattatemi e ditemi voi, qual è il trucco, perché io sinceramente ho fatto un percorso un po' più complesso, quindi per concludere questo lungo video di domande e risposte, vi dico questo, se non lo state ancora facendo, investite nella vostra passione, perché se siete arrivati a questo punto del video, mi avete ascoltato a chiacchierare per, non so quanto è lungo questo video, perché non l'ho ancora montato, lo saprò dopo che l'avrò montato, comunque minuti, decine di minuti di Carla la disegnatrice, che chiacchiera a proposito di come si impara a disegnare, di come si fa arte, investite nella vostra passione, cercatevi un bravo maestro, una brava insegnante di disegno, di pittura, di quello che vi appassiona, e investite tempo e denaro in un corso, preferibilmente in presenza, e qui lo dico anche contro il mio tornaconto, visto che io faccio corsi anche su Zoom, però se riuscite, trovatevi un insegnante in presenza che vi segua, anche solo 10 o 20 lezioni, hanno un senso nell'economia del vostro apprendimento, perché voi potete già fare dei miglioramenti, quindi vedere già i primi miglioramenti, ma soprattutto imparare un metodo, cioè ci sono dei metodi da imparare che poi voi a casa, vi portate a casa e migliorate, allora sì che poi da autodidatti potete migliorare, però con una base, con una base di un metodo, cioè è come dire, io vado dal personal trainer che mi insegna 10 esercizi, poi vado a casa e faccio questi 10 esercizi, faccio questi 10 esercizi di ginnastica, mi verranno i muscoli, mi verrà il fiato, mi verrà la forza, imparerò, migliorerò, ma ho bisogno del metodo, quindi insomma questo è il mio consiglio, perché io immagino che se siete arrivati fin qui, a questo punto lo volete fare, se non lo state ancora facendo, fatelo, se volete io vi rispondo, contattatemi sui social, la cosa migliore, se avete voglia di chiacchiare con me, se siete in zona, venirmi a trovare al laboratorio artistico di Manta, in provincia di Cuneo, zona Saluzzo, zona bellissima, quindi potete farmi anche un giro sulla collina di Manta, vedere il nostro meraviglioso castello, se volete, oppure scrivermi via mail, perché a volte sui social, io cerco di rispondere a tutti, però ovviamente sui social, magari uno si perde i messaggi, invece carlachioccioloscuolarte.it, è sicuramente un indirizzo a cui io rispondo sempre, quasi sempre in giornata, la dico così, poi magari non riesco a rispondere a tutti, però diciamo che in linea di massima, ce la metto tutta, e le email le ricevo, quindi a differenza di alcuni messaggi sui social, che si perdono, le email sono pregese puntuali, bene, fatemi sapere qual è stata magari la domanda più interessante, che magari posso fare un altro video, approfondire, perché ciascuna di queste domande potrebbe dare vita a un video intero, anche a un corso intero di pittura e disegno, quindi fatemi sapere cosa vi interessa, cosa ne pensate, cosa state facendo voi, quali sono i vostri step by step per imparare a disegnare, per migliorare, per trovare ispirazione, tante cose. Bene, ci vediamo presto, ciao da Carla e buona giornata a tutti! Ciao! 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 Grazie a tutti.